Ciao a tutti, come disintossicarsi dalla relazione con un narcisista? Prima di affrontare questo tema, iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, nonché iscriviti al nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto i link in descrizione. Allora, se vuoi imparare a disintossicarsi dalla relazione con un narcisista, perché quando hai avuto una relazione con un narcisista, sicuramente hai avuto un'intossicazione, un'intossicazione da abuso emotivo. Infatti la relazione con un narcisista ti produce sicuramente senso di colpa, ti produce malesseri, ti produce profondi rammarichi, perché il narcisista in qualche modo va ad agganciare le situazioni che tu hai vissuto nell'infanzia, le situazioni negative e riesci naturalmente ad amplificarle, manipolandoti e comunque generando forti tensioni. Per cui, diciamo, nel momento in cui tu riesci a liberartene, e devi riuscire a liberartene, perché quel legame che ti mantiene con il narcisista non è sicuramente un legame d'amore, e tu devi iniziare a fare delle altre cose, a fare introspezione, a fare meditazione. È una cosa fondamentale perché la meditazione ti insegna, diciamo, a curare un po' la tua ferita interiore, ti insegna a venire fuori, diciamo, e prenderti anche una pausa dagli amori sbagliati, perché se non lavori su te stessa, su te stesso, finirai sempre, diciamo così, a trovare gli amori sbagliati, quelli che ti fanno soffrire e da cui non dipende, diciamo, la tua serenità. Quindi è importante meditare, meditare e familiarizzarsi è veramente importante. Poi devi crearti una rete di relazioni, che non vuol dire buttarsi a caprofitto in un'altra relazione, ma costruire la tua rete di supporto, instaurando delle relazioni sane, tra virgolette. Quindi questa è un'altra cosa fondamentale. Imparare, diciamo così, a investire su se stessa, prendersi cura del proprio corpo, confrontarsi, migliorarsi, ecco questo è, diciamo, molto importante. Anche interagire con le persone, costruirti proprio una rete di relazioni in vari ambienti, perché in questo modo avrai la possibilità di portare avanti la tua vita nel modo migliore fondamentalmente. E un'altra cosa fondamentale è quella di, diciamo, credere in se stessi e coltivare la propria autostima. Quindi fare delle cose che ci portano piacere. Ecco, questo è quello che dobbiamo fare per disintossicarci proprio da questa, diciamo, da questo abuso emotivo vissuto con un narcisista. Bene, per questo video è tutto, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, iscriviti al canale e iscriviti al nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto i link in descrizione. Ciao a tutti!